Un saluto a tutti voi che siete collegati con noi. Oggi siamo qui per una iniziativa sulla Scuola Tutto Tondo. Con questa iniziativa che è organizzata dall'Istituto Gramsci e dall'Istituto di Storia Contemporanea. Un saluto a tutti voi che siete collegati con noi. Scusate, c'è un ritorno di voce. Aspettiamo un attimo che venga. Scusate. Allora, con questa iniziativa organizzata dall'Istituto Gramsci e dall'Istituto di Storia Contemporanea. Presentiamo le molte e interessanti proposte contenute nel libro Scuola e apprendimento nell'epoca della conoscenza. scritto da Giovanni Fioravanti, che saluto, è qui con noi e pubblicato nell'ottobre 2020 da Armando Editore. Allora, in questo periodo, come tutti sapete, la scuola è argomento del giorno e tutti la vorrebbero aperta. e questa attenzione è positiva, se non fosse che questa situazione è sorta purtroppo a causa della pandemia. Ma la situazione di attenzione è positiva e noi speriamo che questo serva a far riflettere sull'importanza della scuola, che fino, diciamo, al 2019 è stato un mondo a sé, quasi, e che questo porti anche a riflettere sulla forte necessità che ha questa istituzione di essere innovata. Allora, Giovanni Fioravanti, che è il relatore di oggi, un caro amico per me e un relatore sempre presente nelle iniziative che facciamo del Gramsci e soprattutto nel ciclo di incontri relativi alla conoscenza, è stato docente, formatore e dirigente scolastico. È esperto di istruzione e formazione e i suoi contributi sono pubblicati in diverse riviste specializzate del settore pedagogico, soprattutto. È autore della rubrica La città della conoscenza sul quotidiano online Ferrara Italia e gestisce anche il blog Istruire il futuro. Prima di questo bellissimo testo, Scuola e apprendimento nell'epoca della conoscenza, ne ha pubblicato un altro, Verso la città della conoscenza, Verso una città che apprende, pubblicato nel 2017. Allora, i contenuti di quest'ultimo testo, i cui contenuti saranno presentati oggi, i contenuti di quest'ultimo testo, sono il risultato di studi approfonditi e di lunghe riflessioni che emergono anche dall'esperienza scolastica dell'autore. E molte delle proposte di innovazione, per quanto possibile nella scuola italiana, sono state sperimentate, sono state portate all'interno della scuola. E Giovanni sicuramente ha cercato di metterle in pratica con passione e attenzione, anche se la scuola italiana è strutturata in modo rigido e chiuso. L'esperienza, come sapete, nell'educazione ha un grandissimo valore, soprattutto quando è vissuta con passione, come è stato per Giovanni, e quando la persona è posta al centro del percorso di insegnamento e apprendimento. Inoltre, le riflessioni sulle nuove proposte dell'educazione, che sono state citate nel testo, opera di vari autori di tutti i paesi del mondo, hanno arricchito questo libro di una prospettiva aperta, globalizzata, della conoscenza che va oltre la scuola e fuori dalla scuola, a cominciare dal territorio che le sta attorno e dalla città con le sue molteplicità e il suo capitale umano. Allora, come ho detto, la persona è posta al centro nel pensiero di Giovanni e viene data una grande rilevanza nel suo testo, non solo agli aspetti, diciamo, agli aspetti razionali che sono preminenti nella scuola italiana, ma viene data grande rilevanza alle emozioni, al sentire, perché per imparare c'è bisogno di interesse, c'è bisogno di attenzione e anche del piacere di apprendere. Infatti il primo capitolo di questo libro è intitolato con un neologismo felicità. Felicità ricorda questa parola e città, il luogo che è considerato un luogo prioritario per la conoscenza. Allora, Giovanni, la felicità dovrebbe essere il primo obiettivo di un educatore e anche dovrebbe essere anche gli obiettivi di tutte le persone che apprendono per diventare nella vita felici, dunque, e non per essere più ricchi come la nostra società dei consumi vorrebbe. Intanto ti ringrazio per la presentazione bellissima che hai fatto. Poi devo dire anche una cosa, che nella crisi terribile che si è venuta ad aprire nel Paese e anche per l'istruzione, insomma, per l'apprendimento, però devo francamente dire che è servita per riflettere e per aprire degli spiragli, poi ne parleremo, riprenderemo il tema, che, come dire, restituiscono l'istruzione e l'apprendimento al suo ruolo naturale, che è il territorio, che è la città. Non a caso si incomincia a parlare di apprendimenti non formali, leggevo l'altro giorno della ministra Binetti, la ministra dei pari opportunità, che sta pensando a un'estate come prolungamento di, non di scuola, ma di occasioni di apprendimento, di occasioni di apprendimento utilizzando le risorse e le strutture del territorio. Che finalmente è lo spirito del libro che oggi presentiamo, lo spirito che viene da lontano, poi riprenderemo il discorso in maniera più approfondita. Prendo invece la provocazione che faccio in questo libro. La provocazione, non a caso, come dicevi te, è di felicità, perché questa felicità non può che essere realizzata nei luoghi nuovi dove noi viviamo, cresciamo, dove formiamo le nostre nuove generazioni, con i figli, eccetera. E come dire, che il luogo lab naturale dell'istruzione e dell'apprendimento è la città in cui viviamo. Io scrivo nel libro, noi a scuola impariamo quello che sta fuori dalla scuola, che ci sta tutto attorno, che sta nelle istituzioni culturali, musei, biblioteche, però noi lo prendiamo confezionato nella scuola e il territorio rimane fuori. E quindi questa felicità è un riscoprire la centralità, l'importanza della città. Per quanto riguarda le emozioni, anche qui, tu come me abbiamo lavorato per tanti anni nella scuola, sappiamo benissimo per l'esperienza come le emozioni siano fondamentali nell'apprendimento. E come sia difficile, come dire, dare cittadinanza e le emozioni in ambienti in cui hai tutti i ragazzini, li infilano, i banchi, ognuno che ti guarda, e tu fai la missione. In queste classi, che continuano ad essere classi, a mio avviso, troppo numerose, in questo periodo in cui si diceva dimezziamo le classi per impedire la diffusione del virus, eccetera, io ho visto fotografie e immagini a dare televisioni, in cui tutti con la mascherina, ma il numero di alunni della classe infila dietro i banchi e sentono lo stesso, quindi hai voglia di mezzare, poi ritorneremo. Sul lato delle emozioni, l'emozione è fondamentale, Recalcati ce l'ha ricordato con l'ora di lezione, l'eros in cattedra, però c'è tutta una letteratura pedagogica, psicologica, dall'apprendimento significativo di Osbell, che viene dagli anni 70 fino all'intelligenza emotiva di Howard Gardner, ancora poi ripresa nel 95 da Daniel Goldman, che ha pubblicato in Italia un libro che in America aveva Emotional Intelligence. In Italia è stato pubblicato col titolo nel 97 L'intelligenza emotiva che cos'è, perché può renderci felici. Ecco il tema della felicità. Lo stesso Umberto Galimberti recentemente. Ecco io qui nel libro, però, riprendo le ricerche delle neuroscienze, perché oggi a dirci come le emozioni siano importanti, come le emozioni siano gli attaccapanni in cui si fissano gli apprendimenti. Senza emozione non ci sono apprendimenti che restano, ma basta anche pensare alla nostra esperienza. Cosa ricordiamo di più dei nostri apprendimenti, degli apprendimenti scolastici? Quelli che sono legati a situazioni emozionali. Io qui riporto le ricerche condotte da questa Mary Ellen Imordino Young, che è professore associato di pedagogia e psicologia delle neuroscienze all'Università di Southern California, autrice del libro Emotion Learning and the Brain, che ha anche pubblicato in Italia con l'Erikson un importante libro sull'intelligenza emotiva. Lei ha condotto delle ricerche per questo Brain Creative Institute, che è diretto da Antonio Damasio, che è un grande neuroscienziato portoghese, ad esempio in Italia ha pubblicato diversi libri con la Delphi, Lo strano ordine delle cose, Lo strano ordine delle cose è molto importante. Quindi ecco, l'emozione centrale. A me fa venire in mente come, rispetto a questo tema dell'emozione, noi per anni siamo rimasti al balbettio dello star bene a scuola, che sottintende che poi a scuola si sta male, e quindi bisogna trovare. Ecco, la Imordino Young raccomanda agli insegnanti, tre strategie, leggo qui, per migliorare l'influenza emotiva sull'apprendimento, rendere significativo l'apprendimento, nutrendolo di emozioni, il successo di ciascun studente non è responsabilità esclusiva del singolo, ma investe il clima dell'aula, investe il clima dell'aula, creare interazione, stimolare l'intelligenza, ecco, incoraggiare soprattutto gli studenti ad usare le loro intuizioni nell'apprendere e nel risolvere i problemi. Cioè, risolvere i problemi a partire dalle proprie intuizioni, anche se sono piste sbagliate, abituarsi a percorrere, arrivare a portarle, fino in fondo. Quindi, ecco, da qui ovviamente alla felicità, il passaggio è molto breve. Perché felicità? È un'utopia? È qualcosa? No. Dobbiamo sapere che già dagli anni Ottanta la felicità entra come elemento di ricerca nell'ambito dell'economia. Si scopre che non è legato al prodotto interno lordo, ma che la gente interessa la felicità, cioè il benessere personale. Quello che gli inglesi chiamano o al being, il benessere. Amartya Sen, no, quell'economista bengalese, premio Nobel per l'economia nel 98, è quello che introduce questo termine la felicità. Partendo dall'idea, dall'immagine, dello schiavo felice. Chi è lo schiavo felice? Lo schiavo felice è il prodotto del sistema economico in cui viviamo, il quale crede di essere felice, perché possiede molte ricchezze, eccetera. In realtà, Amartya Sen introduce il termine felicità nel termine del significato latino di felicitas, felicitas, con la radice, con la radice di, arcaica, di feo, e a sua volta dal greco, fio, che significa generare, far crescere. Ecco, allora, che cosa c'è di più importante per un sistema scolastico, per un sistema formativo, per l'insegnamento, se non quello di generare, far crescere, ragazzi, generare formazione, generare intelligenza. E questo, quindi, non è, come dire, la felicità intesa nel senso di piacere alla Epicuro o alla Bentham. è, direi semmai, più nei termini aristotelici dell'agire, del realizzare, no? Dell'agire per realizzare, creare se stessi, e quindi questo termine di felicità è un termine che appartiene alla istruzione, alla formazione, chi lavora nella scuola, anzi è fondamentale. Perché? Perché un sistema formativo deve condurre ciascuno a realizzare se stesso e nella realizzazione di se stesso trova quel benestare con se stesso, quel benessere, eh? Quella benessere per sé e per gli altri. Quindi, ecco, è il luogo dove si sta bene, dove si condivide questo benessere, che cos'è? È la felicità. Ecco qui il giochino delle emozioni e della felicità. Non so se ho risposto alla sua. Certo, senz'altro è molto, molto interessante quello che hai detto. Felicità, per creare questa felicità, quindi, dici, creare interazione. E nella scuola ha spesso, spesso, non è facile creare interazione, perché la scuola è un sistema chiuso e tu infatti scrivi nel tuo libro che sarebbe necessario far cadere metaforicamente le mura dove abbiamo rinchiuso i bambini e i ragazzi e gli insegnanti per fare un'educazione diffusa. E per fare un'educazione diffusa che vada oltre la scuola e tu scrivi che la città felicità è la dimensione urbana ideale per l'apprendimento ed è anche la dimensione fondamentale per partire verso questo mondo globalizzato. Dunque, ti chiedo la città che tu consideri un hub naturale per ecosistemi integrati e per ecosistemi di conoscenza integrale ed integrata e come dovrebbe essere questa città dovrebbe essere una città ripensata e che cosa intendi quindi per abitare una città della conoscenza per esporsi come tu scrivi ai saperi che sono sempre più globalizzati. la pandemia ha portato ad affrontare come dire io dico a citare il tema anche qui dei della comunità educante della comunità educante e dei parti educativi di comunità perché perché con la pandemia non perché si sia scoperto come dire un nuovo progetto di didattica di apprendimento di fare scuola fuori dalla scuola non per questo ma perché c'era il problema di riuscire a trovare come dire spazi sul territorio spazi sul territorio da utilizzare da destinare ad attività scolastica perché gli edifici scolastici dovendo dividere classi ridurre i numeri eccetera erano da questo punto di vista insufficienti angusti erano necessari interventi di edilizia scolastica quindi non è che si è sentita l'esigenza di un modo diverso di fare scuola però ecco la pandemia ha denunciato come dal punto di vista del territorio attrezzato e di quello che ormai si chiama in modo diffuso che dovrebbe ormai essere diventato patrimonio comune apprendimento permanente apprendimento permanente cosa vuol dire che esiste un territorio attrezzato capace di offrire diverse occasioni di apprendimento tutto questo queste politiche sarebbero state indispensabili proprio in questo momento particolare di pandemia e ovviamente abbiamo pagato il prezzo io dico francamente che quando sento parlare di comunità educante di patti educativi di comunità che poi si sono sciolti come neve al sole perché è stato l'invito a farli però io non li ho visti da nessuna parte a me vengono un po' i brividi perché trovo che sia come dire una terminologia angusta angusta quando ormai siamo nel 2021 ormai da 50 anni si parla di società della conoscenza società della conoscenza di educazione permanente e noi parliamo di patti educativi quando non siamo neppure riusciti a costruire la società della conoscenza allora quella dicevi di far cadere le mura entro cui sono rinchiuse generazioni e generazioni che ovviamente è una provocazione ma non è solo una provocazione c'è dietro non è un'idea nuova allora 1972 McLuhan pubblica un libro scrive un libro la città come aula allora la città come luogo investito della responsabilità dell'apprendimento perché lo dicevo prima i saperi che noi trasmettiamo in aula stanno fuori dalle scuole ecco allora c'è chi io parlo qui nel libro riporto esperienze di esperienze che sono come dire ancora in fieri che sono ancora in via di evoluzione che sono anche provocazioni però il problema è superare un'idea in cui noi identifichiamo l'istruzione con l'edificio scolastico allora c'è un docente che è diciamo un descolarizzatore è un oppositore dell'educazione dell'istruzione ma un docente di filosofia della pedagogia dell'università Bicocca di Milano un un esponente della cosiddetta controeducazione radicale dell'educazione libertaria che però fa una proposta interessante pubblica la Gaia educazione la città educante manifesto dell'educazione diffusa e io ne parlo qua nel libro poi rimando alla lettura per gli approfondimenti e lui fa una proposta che è stimolante utilizzare adesso penso soprattutto nella scuola di base utilizzare la scuola come tana in cui organizzi i progetti i progetti educativi da realizzare fuori sul territorio quindi come punto di partenza e come punto di ritorno dove poi torni a dare organizzazione a dare narrazione all'esperienza di sapere che hai fatto all'esterno allora questo però che cosa comporta comporta che noi dobbiamo cominciare a prevedere che ad esempio tutti le nostre istituzioni culturali penso musei biblioteche teatri non è che devono avere come è stato adesso delle iniziative didattiche per i giovani per le scuole no devono avere dentro degli spazi degli spazi didattiche dove è normale andare a fare lezione a come dire vivere il museo facendo lezione e vivendoci dentro io adesso se uno se va all'Uvra trova che nelle sale dell'Uvra c'è sempre qualcuno col suo cavalletto che dipinge che riproduce ecco l'idea è questa qua cioè facciamoli vivere sono importanti c'è una come dire gestione una politica dell'istituzione culturale che è legata al loro compito di conservazione eccetera ma ci deve essere anche come dire un uso un uso che permetta a chi studia chi sa eccetera di familiarizzare di vivere di andare in queste strutture e se noi questa politica l'avessimo fatta quindi vuol dire anche pensare iniziative avere una visione delle politiche ampie con una loro direzione una loro gestione ma se noi tutto questo l'avessimo fatto avremmo fatto delle città come parleremo più tardi che apprendono che fanno dell'apprendimento il centro delle loro politiche allora parliamo di anche qui cose che appartengono al come dire all'utopia al futuribile al mondo che non c'è eccetera no nessuno di noi ecco si è occupato si è preoccupato di interrogarsi se questa scuola così come l'abbiamo fatta fino adesso l'abbiamo fatta fino adesso eh sia che è la scuola di chi di 150 anni fa di più casati gentile guarda bene cosa ci fa noi allora teniamoci presente che anche qui noi stiamo parlando di cose che vengono da lontano nel 1972 qualcuno se lo ricorderà avrà sentito parlare io spero del rapporto dell'UNESCO 1900 il famoso learning to be apprendere per essere quindi già un'idea diversa quindi apprendere non per fare replicante eh non per diventare ecco qui faccio la provocazione il cittadino che si riconosce nella sua storia nella sua patria della sua bandiera eccetera quindi come dire integrato nella società in cui si è trovato a crescere ma invece apprendere per essere per vivere per essere per realizzare se stessa ecco che si sposta tu parlavi dell'attenzione alle persone questo qua che c'è tra persone cioè ognuno ha il diritto di realizzare se stesso non solo di realizzare il proprio progetto di vita allora non è lui al servizio della scuola per cui deve prendere un titolo di studio per non pesare essere utile al paese no il titolo di studio eccetera deve prenderlo per realizzare se stesso per crescere lui ecco quindi e l'apprendere learning to be significa che apprendere in ogni momento in ogni luogo allora io mi chiedo sono 50 anni da questo rapporto for che è caduto e questo che a me fa venire anche un pochettino di di rabbia nella totale indifferenza se noi ci guardiamo dietro nel nostro paese quando mai qualcuno si è occupato di questo si è occupato di come dire prenderlo seriamente noi l'unica preoccupazione che abbiamo avuto è stato l'appello con la firma di 600 docenti universitari perché i nostri studenti rischiavano di imparare male l'italiano arrivavano all'università con scarse competenze 72 passi 50 anni fa 1995 allora l'Europa pubblica il libro bianco di Cresson dove viene coniata l'espressione quella che ormai che noi diciamo che è l'educazione per la mente che è lifelong learning lifelong learning e si sviluppa il concetto di knowledge society la società della conoscenza ecco perché dico perché dobbiamo parlare di comunità educante con quel sapore sempre un po' di nostre tradizioni di un certo tipo e non di società della conoscenza c'è una bella differenza c'è una bella differenza perché intanto la comunità educante dà un'idea di divisione quindi ognuno per sé ognuno con la propria idea di educazione di istruzione di scuola non so che cosa la società della conoscenza è qualcosa che invece responsabilizza investe tutti tutti dal piano politico fino al piano al piano personale e poi c'è un salto ecco quest'altra cosa qua importante nei concetti c'è con questo libro bianco di Cresson un salto significativo anche qui per dire come le parole contano sono importanti il salto dalla educazione all'apprendimento noi sul termine educazione è sempre un termine che io prenderei con le pinze lo dico anche nel libro lo scrivo con molta attenzione con molta attenzione perché l'idea di educazione è sempre quella che tu così come sei non vai bene bisogna che ti modifichi ti devi adattare questa è l'idea dell'educazione allora noi gli inglesi hanno education ma l'education degli inglesi non è la nostra educazione è istruzione è istruzione invece noi con le nostre tradizioni eh eh di un certo tipo vediamo sempre come dire il ramo storto dell'umanità insomma eh davanti a noi qualcuno che è storto che ha bisogno di essere raddrizzato quindi formato modellato a nostra immagine e somiglianza invece no c'è il problema è apprendere 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 cioè io ho bisogno di avere degli strumenti di sapere di conoscenza come mi oriento in questo mondo come mi oriento nel futuro mi volete dare gli strumenti e soprattutto non darmi dei confezionati ditemi come posso conquistarli costruirli averli e riprodurli e quando quegli strumenti lì non li avrò più non li dovrò cercare degli altri ecco allora fino arrivo ancora a un'altra citazione importante perché secondo me sono For, Cresson e Delors i tre momenti fondamentali su cui noi abbiamo una carenza culturale che abbiamo scontato soprattutto adesso nel momento del bisogno nel momento in questo periodo di pandemia e penso al rapporto Delors anche questo dell'UNESCO istruzione come utopia necessaria penso un po' come utopia necessaria e dove già c'era l'indicazione l'idea l'invito a l'insistenza ad aprire l'istruzione a tutta la società quando diciamo cadete cadere a delle mura per favore apriamo le scuole alla società alle comunità locali non è che l'apprendimento la formazione l'istruzione avvengono tutti a scuola c'è una realtà attorno io tante volte mi dico ma perché noi dobbiamo fare tutte le materie a scuola quando abbiamo strutture e servizi sul territorio che potrebbero essere coinvolti in un piano organico di apprendimento e ci abbiamo gli strumenti per farlo perché abbiamo dal 2000 le leggi sull'autonomia le scuole lo possono fare perché l'educazione fisica devo fare la scuola quando ho strutture sportive sul territorio ricche attrezzate eccetera in cui i giovani al pomeriggio potrebbero andare così la musica così l'arte ma perché dobbiamo fare tutto così ecco avere un progetto di educazione permanente dove ogni struttura e territorio ha servizio non idea quindi si diceva in questo rapporto del 96 restituire ai giovani bambini il loro posto di diritto nella società quindi e questa è rispetto alla domanda che mi facevi che era da prendere ecco la città come hub naturali ed ecosistemi e tutto questo può avvenire solo nella città in questo senso anche qui condivido per molto quello che hai detto non si apprende solo a scuola leggevo qualche giorno fa un articolo di Massimo Recalcati che diceva genitori non preoccupati se le scuole sono chiuse per motivi di necessità perché la conoscenza è qualcosa di circolare come dicevi tu ecco questa non è che la conoscenza scusa se ti interrompo pensiamo anche a noi adesso io penso uno che esce da un percorso di studi normali eccetera fino all'università poi va a lavorare eccetera ma noi quello che abbiamo preso rispetto al nostro lavoro eccetera non mica l'abbiamo appreso a scuola ecco quindi c'è tutto un apprendimento non formale che ad esempio è quello del lavoro a parte gli apprendimenti informali allora io nel libro scusa se ti ho interrotto ma nel libro ne parlo fino a richiamare la legge fornero la famigerata legge fornero del 2012 no su ripensione la quale contiene uno strumento straordinario che è passato inosservato io non so che fino abbia fatto che l'ha preso perché la comunità europea l'Europa insisteva che venisse portata avanti la legislazione sull'istruzione permanente e ci sono tutti gli articoli sulla formazione sì sulla formazione non formale e informale fino fino alla compilazione di un database quindi ci dovrebbe essere in Italia una banca in cui sono registrate le competenze non formali e informali degli italiani dove siamo? è una roba rivoluzionaria siamo nel futuro quindi si fa le cose e poi non hanno seguito purtroppo non hanno seguito ma scusa è giustissimo quello che dici ed è anche molto bella l'immagine che tu hai ci hai proposto parlando che di una scuola come Tana dei progetti come punto di partenza e di ritorno di partenza verso l'esterno verso la società questa società che purtroppo non si è curata della scuola in questi ultimi decenni forse magari la gente se ne curava di più nell'ottocento quando è nata la scuola italiana perché la sentiva come un motivo di 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 crescita per i propri figli comunque nella nostra società la scuola la scuola rimane un mondo a parte e credo che come come dici tu questo mondo a parte l'abbia un pochino preservata dalle leggi del mercato mercato e progetto di vita individuale hanno divorziato tuttavia c'è questa tendenza nel mondo contemporaneo anche tra alcuni degli studiosi degli economisti soprattutto questa tendenza a richiedere di formare gli studenti per il mondo del lavoro e per il mercato del lavoro e non di distruirli per un progetto dare le competenze per un progetto di vita da realizzare mentre dall'altra parte ci sono molti che richiedono la necessità di formare un capitale urbano umano come forma di intelligenza dinamica scrivi tu e quindi per questo è necessario andare oltre la scuola e secondo te come dovrebbe essere questo nuovo modello economico per cui occorre questa forza di intelligenza dinamica questo nuovo modello economico basato sulla conoscenza e non più sul profitto e come è possibile anche ridisegnare l'istruzione in modo nell'epoca del capitale umano e dell'apprendimento come dicevi prima dalla nascita alla morte lifelong learning una bella domanda questa io provo sì perché qualcosa scrivo sul libro in realtà voglio dire l'economia della conoscenza ormai è diventato patrimonio comune insomma il mercato il mondo economico è tutto legato vediamo sulla conoscenza gli effetti li abbiamo proprio in questo momento in cui combattiamo contro il coronavirus pensiamo alla grande conquista della ricerca di avere in così poco tempo vaccini che ci permettono di combattere il virus il male questo che cos'è questa questa economia della conoscenza e quindi che cosa significa questo questo significa che noi dobbiamo interrogarci sulla centralità io poi qui porto un'esperienza del Canada dopo ne parliamo sulla centralità della formazione ma che tipo di formazione questo è il che si fa tanta come dire polemica retorica sul rapporto scuola e mercato intanto lo dicevamo prima il la scuola ha divorziato dal mercato perché la tipo di organizzazione della scuola che è legata alla vecchia organizzazione del lavoro non esiste più la scuola non corrisponde più non corrisponde più io sono convinto che sia necessario invece cercare di riconciliare i saperi gli apprendimenti della scuola con le esigenze dello sviluppo del mercato dell'economia attenzione non a caso non a caso l'agenda 2030 dell'ONU no l'agenda sullo sviluppo sostenibile da centralità assoluta alla formazione e alla formazione permanente c'è scritto lì c'è scritto nell'agenda da anni da anni e quindi è qui che dobbiamo pensare ragionare c'è un bellissimo libro che consiglio a chi si deve preparare per i concorsi della scuola l'invito a leggerlo di due docenti dell'Università di Torino conosciuti Mario Castoldi e Giorgio Chiosso quale futuro per l'istruzione del 2017 e si apre con un'affermazione che dice questo sistema scolastico che abbiamo non serve più a niente va radicalmente cambiato allora però attenzione non è un problema solo nostro la crisi dei sistemi formativi educativi perché sono tutti uguali perché sono sistemi che nascono come dire con la nascita degli stati nazionali e quindi dovevano servire a un progetto la formazione del cittadino cioè il cittadino che si integra nella società il cittadino che è rispettoso delle leggi il cittadino che si riconosce nei segni di appartenenza alla propria comunità il massimo il punto più alto è scuola e democrazia di diui però non è più sufficiente per noi questo dobbiamo andare oltre dobbiamo andare oltre tanto perché perché quel tipo di società non c'è più le società cambiano velocemente siamo in un mondo globalizzato e le sfide che abbiamo sono altre allora le sfide che abbiamo sono a quali figli qualcuno ha scritto lasceremo questo pianeta non è solo come salveremo il pianeta è a quali figli quali strumenti quale formazione quale preparazione come saranno attrezzati per salvare il pianeta per il futuro del pianeta questo è il grande interrogativo allora noi siamo a sistemi scolastici ereditati dal diciannovesimo secolo quindi è evidente che non siamo in grado quindi che identificano la scuola come dicevo prima con l'edificio scolastico e con che cosa la divisione in classi le classi formate sulla base dell'età grafica lo stesso hanno tutti a fare le stesse cose il luogo se non superi l'anno vieni bocciato quindi ripeti ancora a prescindere che se mai in altre materie andavi bene quindi abbiamo tutta una rigidità di sistema che non è più gestibile abbiamo bisogno di flessibilità io vedo che qualcuno incomincia anche a ragionarci su questo però una scuola ovviamente che è nata quando si doveva sconfiggere l'analfabetismo ma ormai abbiamo livelli di istruzione elevati abbiamo possibilità di apprendimento diffuso il tipo di analfabetismo è un altro l'analfabetismo funzionale e quindi insomma è possibile a questo punto un'altra scuola ecco un'altra scuola che anche qui tu dicevi il capitale umano noi questa idea di capitale umano dobbiamo sottrarlo all'economia o perlomeno o perlomeno dare un'interpretazione dare un'interpretazione diversa perché è vero insomma l'economia della conoscenza è arrivata anche a speculare sulle conoscenze io dico che da merce lavoro a capitale umano c'è un salto qualitativo allora qual è il salto qualitativo che se io parlo di capitale umano quindi di cosa capitale fondamentale prima in assoluta parlo della risorsa più importante che abbiamo e la risorsa più importante è l'uomo e la risorsa più importante dell'uomo è il sapere allora dobbiamo fare questo ragionamento e dobbiamo impostare come dire la nostra ecco società della conoscenza le città che apprendono su questo concetto su ognuno di noi come cattività l'umano in quanto risorse da investire perché perché è risorsa di sapere non è voglio dire l'idea di capitale umano nasce con la richiesta delle nazioni di Adam Smith nel 1676 non è più quello il concetto il concetto deve essere questo qua bene io nel nel libro parlo di un'esperienza che è stata condotta da in Canada al Waterloo canadese ecco dall'Equinox Summit Learning 2030 organizzato dall'istituto Global Science Initiative di Water Canada questi nel 2013 hanno organizzato un incontro che ha visto la partecipazione di 33 rappresentanti provenienti da tutti i continenti espressioni di realtà economiche socio-economiche e di giovani studenti impegnati nell'innovazione scolastica proprio per discutere di come doveva essere la scuola anche in rapporto le esigenze del mercato del lavoro dal 2013 al 2030 cioè chi era giovane nel 2013 e nel 2030 si sarebbe trovato a fronte del mercato del lavoro allora l'elemento che viene fuori intanto è sempre quello che noi abbiamo detto quello di rompere l'organizzazione attuale dell'istituzione scolastica porre al centro gli studenti e il progetto educativo scelto dagli studenti io qui parlo di questa esperienza in cui gli studenti scelgono un progetto e progetti diversi con la collaborazione degli insegnanti insegnanti che fanno da registi da tutor un progetto da realizzare socialmente nella società con il coinvolgimento di strutture anche private luoghi del lavoro società del territorio attorno del territorio con tutor che non sono necessariamente personale scolastico ma esperti che li affiancano nella realizzazione di questi progetti da portare in porto per cui non ci sono classi ma si formano gruppi gruppi a seconda dei progetti che vengono scelti a seconda degli interessi insomma si realizza per farla poi rimando anche qui alla lettura si realizza quello che tante volte anche qui chi si occupa di scuola di studi di pedagogia si è raccontato si è raccontato sto pensando al passaggio dal cognitivismo che pure era un momento avanzato rispetto all'istruzionismo ti trasmetto le nozioni belle confezionate dal cognitivismo al costruttivismo il costruire è il saperi sei tu che costruisci le conoscenze i saperi quindi ormai noi parliamo di costruttivismo metacognizione cioè ragionamento su conoscenze ma ne parliamo senza praticarli perché poi se pretendiamo di farli calare li caliamo su una scuola che è sempre quella stessa dell'aula dei banchi dietro uno dietro l'altro della cattedra della lavagna non di scuole che cambiano anche dal punto di vista dell'architettura degli spazi perché hai degli studenti che agiscono si muovono formano gruppi rompono gruppi portano avanti i progetti escono sul territorio cioè capiamo che c'è una visione completamente nuova è chiaro che a questo punto che cosa succede che gli studenti acquisiscono anche quelle competenze che sono necessarie oggi nel mercato del lavoro quindi tanto quello di riuscire a formulare ipotesi di darsi un progetto realizzarlo quello di risolvere i problemi quello di essere in grado di lavorare in team quello di essere in grado di acquisire conoscenze che non hai ancora perché non è la conoscenza che ti dà la scuola ma è apprendere di nuove allora la scuola ti deve aiutare a sapere apprendere di nuove allora l'esperienza di Waterloo in Canada dell'Equinox Summit ci dice questo che questo è possibile che questo anche questo non è ci sono le esperienze concrete chi vuole può andare a vedere anche come dire i risultati di queste esperienze documentarsi c'è il sito in internet dell'Equinox Summit Learning 2030 ecco ad esempio noi io adesso sto pensando quindi noi abbiamo come dire perso un altro treno se noi pensiamo ad esempio come in Italia non siamo riusciti a sviluppare gli istituti tecnici superiori cioè a come dire portare l'importanza del lavoro a livello di importanza terziaria universitaria e questo spiega la difficoltà che noi abbiamo di coniugare le competenze che la scuola può dare con le competenze richieste dal mondo del lavoro che non è che c'è un mondo del lavoro che ne richiede le specifiche perché neppure il mondo del lavoro può chiedere qualcosa di rigido e specifico come potrebbe essere il tornitore una volta ha bisogno di intelligenze formate di intelligenze formate le gente che sono abituati a lavorare con i saperi come in laboratorio no? con questa cosa quindi c'è con come dire anche avere consapevolezza di sé consapevolezza di sé coscienza di sé perché qui ci sono molte ricerche adesso sto pensando a quelle di Heider e Weiner del 1992 sull'importanza della conoscenza di sé della consapevolezza delle competenze che ho e delle competenze che non ho di dove posso arrivare e come fare per arrivare là dove so di non poter arrivare e noi ci rendiamo conto che abbiamo perso del gran tempo cioè noi non solamente noi però ci siamo seduti su modelli ancora vecchi ecco io penso di poterti dire questo rispetto alla tua domanda che tipo che tipo di economia allora Giovanni parlavi del Canada e quindi anche di tanti studiosi che hanno apportato nuove proposte di istruzione e di educazione mi è venuto in mente subito come sono ben apprezzati i nostri giovani all'estero quando escono dalla nostra scuola che ha una formazione soprattutto diciamo soprattutto scolastica tra virgolette però che riesce anche a formare in maniera non specializzata non sempre specializzata che i nostri giovani quelli che hanno le migliori competenze trovano all'estero un apprezzamento notevole questo estero che è capace di fare tante esperienze e che sono molto avanzate e che spesso sono molto affascinanti tu parli della terra a proposito di altri stati come condominio globale degli esseri umani un concetto questo che è stato espresso anche nell'enciclica di Papa Francesco e parli del socio psicologo statunitense Richard Nisb il quale ci racconta che proprio questa globalizzazione porta alla conoscenza di noi tutti delle forme mentis differenti un'umanità che si è formata in maniera differente e che ha anche metodi di conoscenza differenti e lingue differenti quindi questo è il fatto che i nostri giovani italiani siano molto apprezzati all'estero ovviamente quelli che hanno migliori competenze formate mi fa pensare che possa esserci un percorso di conoscenza nel mondo globalizzato che abbia qualcosa in comune in tutto il mondo e quali potrebbero essere secondo te i percorsi di conoscenza in questo mondo globalizzato un mondo globalizzato in cui le merci circolano sempre liberamente ma non sempre per le persone circolano liberamente sì io dico una cosa sui nostri giovani che sono apprezzati all'estero che però abbiamo la fuga dei cervelli che sono giovani che non sono apprezzati in patria ma vanno all'estero bisogna dipende da come si vede come si vede quindi cosa vuol dire vanno all'estero perché sarebbero a disagio nel loro paese in patria non avrebbero spazio eccetera io non lo so ti dico sinceramente quanto nella formazione di questi giovani brillanti eccetera abbiano influito abbiano influito la nostra scuola e la nostra università senza dubbio danno un metodo eccetera io da ex insegnante spesso mi dico forse lo dico anche in termini provocatoria se la nostra scuola riesce a fare in modo che uno esca se stesso senza essere deluso frustrato è già una grande conquista è già una grande conquista quindi più delle volte penso che questi giovani sono tali più per meriti loro che per meriti meriti della scuola della scuola anche perché noi non siamo riusciti a modificare la mobilità della scala sociale non so se hai avuto modo ma li leggevo vediamo me lo sono segnato da qualche parte leggevo eccola qua dopo poi l'ultima rivista l'ultimo numero della rivista Sinapsi che è la rivista dell'istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche e questa rivista riporta istruzione e mobilità intergenerazionale un'analisi dei dati italiani allora salta fuori ad oggi 2021 che i figli un figlio di genitori con la laurea ha il 75% di probabilità di laurearsi un figlio di genitori con il diploma di secondaria superiore il 48% un figlio di genitori solo con la media il 12% senza niente quello il 6% allora noi ci rendiamo conto qui veramente la scuola che ascensore sociale è la scuola se è questa la situazione allora quando dico merito loro o è anche fortuna loro che sono nati in ambienti culturalmente stimolanti con tantissime opportunità di apprendimento addirittura superiori di quello aperto dalla scuola ecco l'educazione permanente del territorio e quindi ovviamente hanno ovviamente dotati di capacità di intelligenza eccetera hanno proseguito e con con la loro intelligenza si sono riusciti ad affermare anche l'estero ripeto sul ruolo dello scuola della società io non sono in grado di dire in un verso o nell'altro invece la domanda che tu mi facevi questo mondo globalizzato in questo mondo globalizzato il sapere sì perché c'è il rischio che noi abbiamo globalizzato le merci il mercato eccetera però non abbiamo globalizzato le persone perché è vero che i sistemi scolastici nel mondo sono tutti pressoché uguali tutti infatti cosa cambia cambia come dire la visione della vita che è sottesa a questi sistemi scolastici ma poi per il resto sono uguali ci sono però due cose io lo scrivo nel libro due esigenze nella formazione che definiscono l'istruzione oggi che sono un alto grado di intellettualità quindi il livello di preparazione di sapere sempre più alto alto grado di intellettualità e un elevato grado di solidarietà un elevato grado di solidarietà queste sono le due come dire stelle polari della formazione allora il primo serve perché ciascuno raggiunga i livelli di sviluppo scientifico e tecnologico richiesti dalla civiltà in cui viviamo contemporanea e il secondo di solidarietà qual è? il secondo è per apprezzare i valori culturali e le culture degli altri che sono l'arricchimento la cultura degli altri cioè per rompere superare la crescente emarginazione ed esclusione che produce la globalizzazione questo è il dato della solidarietà e qui cominciano i problemi perché questo vuol dire che dobbiamo però anche essere in grado di rimettere in discussione come dire le nostre categorie i nostri canoni i nostri canoni di sapere perché io scrivo nel libro in questo condominio globale è importante capire come i nostri vicini pensano perché questo ci aiuta ad orientarci una bella cosa che mi è capitato nelle ricerche che ho fatto per scrivere questo libro è quella di essermi incontrato nei confronti con la multiversità con la multiversità allora noi che siamo abituati alla università qui a un verso solo no alla universalità delle nostre università ti incontri al di là del braccio del Mediterraneo al di là dell'equatore in Uganda in Africa questa come dire un mondo diverso la multiversità africana di cui è presidente e fondatore questo Paul Van Gola credo Van Gola non so bene come si pronuncia e lui spiega una multiversità una multiversità differisce da una università nella misura in cui essa riconosce che l'esistenza di forme di sapere alternative è importante per l'insieme della conoscenza dell'umanità e quindi sostiene che per risolvere i problemi dell'umanità oggi è necessario trovare una sintesi tra i saperi propri delle singole tradizioni indigene e le moderne conoscenze scientifiche quindi noi tendiamo un po' come dire a non tenere presente a immarginare le culture altre della nostra culture che consideriamo indigene lui dice no hanno questi dei valori eccetera però al di là di questo si crea un problema perché se adesso noi pensiamo solamente ecco tu dicevi nel libro io richiamo gli studi di Richard Nisbet questo docente di psicologia sociale e direttore del programma Culture and Commission dell'Università del Michigan e lui che cosa ci dice una cosa anche qui che dovremmo già sapere ecco dice che il cervello è fisiologicamente sempre lo stesso per tutti noi cosa cambia cambia la mente le menti sono diverse no ognuno hanno dal punto di vista anatomico tutti abbiamo lo stesso cervello ma poi formiamo menti pensieri adesso a me viene in mente Vigoschi con linguaggio e pensiero tra forza perché il pensiero si forma attraverso la trasmissione del linguaggio della tua comunità e quindi anche questo per cui però la cosa che Nisbet ci dice è esiste una vera e propria geografia del pensiero anche questo sembra una cosa elementare ma noi dovremmo anche qui soffermarci a pensare a questa cosa qua no che esiste questa geografia del pensiero e soprattutto in questo mondo globalizzato gli immigrati eccetera ma adesso penso anche a tutti gli alunni stranieri immigrati eccetera che vengono inserite nelle nostre scuole quindi Nisbet ci dice il processo di adattamento all'ambiente ha prodotto forme mentis differenti conseguentemente anche condotte e metodi di conoscenza condotti e metodi di conoscenza che tra loro divergono sono diversi allora il lavoro di Nisbet è interessante perché è stata una presunzione cioè che l'idea che è tipica dei cognitivisti che esista una sola forma di conoscenza che esista un solo modo di conoscere che esista una sola strada che conduce la conoscenza e questo il fatto che non sia così è un'insidia fondamentale per la cultura occidentale per l'occidente per la cultura illuministica noi pensiamo che la cultura deve essere la conoscenza nel nostro illuminismo occidentale che la conoscenza sia sempre identica a se stessa da est a ovest da nord a sud del mondo e Howard Gardner è vero che abbiamo citato prima il guru delle intelligenze multiple dice che il lavoro di Nisbet è una provocazione soprattutto per gli scienziati cognitivisti gli scienziati cognitivisti che non ammettono che ci siano modi diversi nel mondo di pensare che pensano che nel mondo ci sia un unico modo allora noi basterebbe fare una differenza un confronto tra il modo di pensare occidentale che è tipicamente individualista tipicamente individualista legato che cioè individualismo che induce noi stessi a considerarci unici e liberi di agire rispetto alle culture ad esempio che vengono dal confucianesimo Cina Giappone la Repubblica Democratica Corea che sono invece culture olistiche olistiche non individualiste cioè l'olismo per cui ogni essere è parte di un tutto ampio e interdipendente che voglio dire è una bella cosa perché sentirsi parte di un tutto interdipendente di questo olismo vuol dire anche avere il senso di responsabilità nei confronti degli altri sentire la responsabilità nei confronti degli altri cosa che la nostra cultura occidentale individualista invece fa è vero scendere in secondo piano quindi non solo poi ci sono modi di pensare differenti tra società che sono in pronta collettivista è collettivista e società è impronte individualista ma questo vale anche per le influenze religiose culturali società in cui influenze religiose ma vale anche per i modelli educativi noi veniamo da una tradizione educativa che abbiamo definito che è l'educazione nuova l'educazione progressista a cui si rifanno tradizionalmente tutti i modelli occidentali di educazione di formazione di scuola per cui lo ricordavo prima cioè questo modello educativo promette di formare le persone a farsi carico della società e della giustizia sociale questo che per noi è un ideale scolastico per altre culture per altre culture in particolare culture religiose lo considerano un obiettivo ingenuo e irrealizzabile ora ancora noi abbiamo parlavamo prima del modello del capitale umano e per il modello del capitale umano da questo punto di vista che cosa cosa significa che il sapere è il prodotto della scienza e il fine fondamentale di ogni esistenza risiede nell'accumulare la ricchezza la ricchezza questo è il nostro modello e quindi a questo punto la conoscenza è al servizio di questo fine la conoscenza è il mezzo per accumulare accumulare la ricchezza questo che per noi è fondamentale per altre realtà religiose pensiamo alla cultura protestante Max Weber è al servizio invece di una visione religiosa di divinità di alto quindi abbiamo allora qual è il problema il problema è che il rischio che noi globalizziamo le merci ma non riusciamo a far incontrare le persone globalizzare le persone rimaniamo rimaniamo divisi globalizziamo i mercati ma non ci come dire liberiamo dal tirannide delle nostre culture dei nostri condizionamenti dei nostri conformismi io nel libro riporto una serie di iniziative in particolare che hanno come obiettivo iniziative educative eccetera rivolte come ai billi come il sesam street la strada del sesamo no che sono volte a educare alla mondialità alla globalizzazione a sentirsi cittadini cittadini del mondo sono state trasmissioni televisive giochi online eccetera addirittura c'è la Pearson che ormai sappiamo che la Pearson è una multinazionale dell'apprendimento eccetera che qui ne parlo che ha come slogan imparare sempre imparare sempre e offre una quantità di materiali che non finisce più la Pearson edita anche la learning curve cioè la curva dell'apprendimento che è il rapporto annuale sull'andamento dell'apprendimento nel mondo dall'infanzia all'età adulta all'età adulta e sono coinvolti 50 50 paesi proprio perché l'interesse è quello in qualche modo ci si rende conto che la rete i mezzi di informazione di massa eccetera sono lo strumento per cercare di unificare culturalmente di amalgamare culturalmente e adesso pensiamo che cosa è la rete cosa potrebbe essere la rete per le scuole cioè mettersi in rete con le scuole ne parlo nel libro con le scuole di altre realtà non solo nostre europee occidentali ma i propri mondi che ci sono più lontani fare rete se ad esempio biblioteche ospedali musei facessero rete nel mondo ecco che a questo punto forse crescerebbe anche una cultura globalizzata una globalizzazione della cultura dunque una globalizzazione della cultura dunque la cultura ha bisogno avrebbe bisogno diciamo di una certa gestione o perlomeno di indirizzi che potessero renderla globalizzata indirizzi qualche cosa già si fa ma è poco quello che si fa anche perché siamo divisi in zone nel mondo in cui zone in cui i paesi comunicano fra di loro e altre zone in cui è più difficile insomma questa comunicazione allora la gestione della conoscenza comunque nel nostro mondo è diventata strategica che è diventata strategica per il mondo degli affari lo è soprattutto per l'istruzione per la pubblica amministrazione e per la sanità e questo lo dicono molti dei nostri politici molti degli studiosi in tutto il mondo e mi chiedo se stiamo veramente entrando in una nuova fase di civiltà in cui il valore attribuito alla conoscenza sia la forza trainante anche perché c'è secondo me però non so se sei d'accordo una forte dicotomia tra quello che molti studiosi dicono e ad esempio il mondo reale mi riferisco ad esempio al mondo della politica la composizione del mondo politico e dei governi non solo quello italiano a volte ci fa pensare che la competenza non sia così poi apprezzata e non sia poi così importante e quindi ti chiedo insomma qual è questa visione strategica per questa organizzazione socio-economica della conoscenza in modo tale che questa conoscenza sia veramente utile e non solo a livello nazionale ma a livello mondiale per l'istruzione per la pubblica amministrazione particolare in Italia per la sanità in questo periodo in particolare si è visto come è importante la comunicazione per la sanità sì il valore della conoscenza faccio una premessa che anche questo è definire da che punto partiamo il nostro punto di partenza allora l'Ocse i dati Ocse ha evidenziato che in Italia prendendo un campione di individui tra i 25 e i 64 anni solo il 30% degli italiani ha completato il livello di studi di secondaria di secondo grado solo il 30% l'8% quello universitario l'8% quello universitario 25 e 64 anni ha completato e il 62% scuola di base elementare media c'errione allora io questi sono i dati Ocse li dico perché sono impressionanti ecco impressionanti perché poi noi in questi anni ci siamo divertiti divertiti a fare dell'ironia su e a leggere noi anche insomma addetti più o meno sì operatori della cultura lavoratori operai del sapere insomma abbiamo ci siamo divertiti con a leggere libri come quello di Gianni Canova Ignorantocrazia il libro di Tom Nichols La conoscenza i suoi nemici osa sapere oppure Giacomo Pappi è che adesso poi è ritornato il censimento dei radical chic e noi su questa roba c'è come dirlo ecco però questo è il segno di come la portata strategica fondamentale della conoscenza delle competenze siano stati sottovalutati con una superficialità e un'arroganza impressionanti a partire dalla politica perché abbiamo vinto in questi anni cioè noi abbiamo un buco rispetto agli altri paesi almeno di 30 anni direi tanto e sono 30 anni a mio avviso di responsabilità della politica e proprio cioè come dire con una tale disattenzione con una superficialità un'arroganza anche arroganza non rendersi conto che stiamo diventando un paese profondamente ignorante e ignorante non è quello che non sa è quello che non sa di non sapere e questo è il problema grave e questo è il problema grave allora io nel libro scrivo il ritorno alla alla città perché dal modello di società industriale ormai tramontato tramontato siamo passati al modello di società della conoscenza nonostante la conoscenza ancora resti cenerentola e negletta allora io nel libro riporto diverse esperienze diversi esempi intanto partendo dal ruolo della città perché il ruolo di crescita e di sviluppo è dalle città adesso abbiamo visto anche con la gestione della pandemia della sanità conflitto tra stato centrale e regioni ma poi dopo il tutto si gestisce in realtà a livello delle città delle cinque città periferico è lì allora io rimango sempre interdetto quando penso a città che non sono capaci di fare danni politiche di apprendimento che pensano che le loro competenze sull'apprendimento sulla conoscenza sui saperi si esauriscono nell'edilizia scolastica e nelle mostre è una fase è passata siamo passati dobbiamo fare un salto di qualità allora c'è un libro bellissimo di Edward Glaser il trionfo della città il trionfo della città cui dice che fra nel 2050 il 75% degli abitanti della terra vivrà in città e che l'urbanizzazione è un fenomeno recente ma perché veramente la città è il cuore pulsante della vita delle persone non è che con smart working le città perdono importanza le città rimangono il fulcro ed è compito della città essere i principali motori della crescita economica dell'apprendimento perché l'apprendimento perché l'apprendimento la conoscenza sono il combustibile della crescita economica il combustibile non si va avanti allora nel libro cito l'esempio di Vienna di Vienna Vienna nel 2015 ha celebrato i 650 anni dalla fondazione della sua università della sua università e questa celebrazione è diventata per Vienna l'occasione per dichiararsi ufficialmente knowledge city città della conoscenza quindi città che basa la sua crescita il suo sviluppo la sua organizzazione sulla conoscenza e che quindi deve avere un assessorato che di questo si occupa che non è l'assessorato alla cultura alle mostre ai teatri ma che è un assessorato che riesce a tessere una rete in maniera tale che l'azione di tutti gli altri assessorati tenga conto di questo obiettivo che c'è nello stesso tempo questo obiettivo di promuovere conoscenza occasioni di conoscenza strutture e quant'altro e riporto poi a parte vari esempi addirittura una città della Corea del Sud De Geu credo che si pronunci che è la quarta città più grande dopo Seul il cui motto è De Geu leader mondiale dell'economia basata sulla conoscenza poi potremmo andare a vedere che nel frattempo in questi anni Montreal Dublino Dublino cosa c'è? Microsoft Google Facebook IBM ha attirato tutti un po' della conoscenza eh ma bisogna avere delle idee politiche Barcellona Monaco Stoccolma sono tutte città che si fa la Svezza poi dal punto di vista della medicina noi in Italia non abbiamo una città della conoscenza neanche cercarla con l'anternino l'unica è Trieste come pollo di fisica di scienza eccetera ma è mai possibile allora in questa situazione però ci sono nel mondo riporto le esperienze e i dati molte città che incominciano a basare le loro strategie innovative sulla conoscenza e adiriscono a quella che è la rete delle città che apprendono dell'UNESCO l'UNESCO quindi la organizzazione culturale dell'ONU ha fondato da anni la rete delle città che apprendono però la rete delle città che apprendono vuol dire assumere degli impegni per essere riconosciuti città che apprendono allora io dico tanto noi che veniamo da una tradizione poi pensando l'Emilia l'Emilia in cui abbiamo portato alla nascita dei nidi delle scuole dell'infanzia quindi una grande conquista da questo punto di vista dopo questo non siamo più riusciti a fare un altro salto di qualità a fare delle nostre città città di apprendimento diffuso allora nel nel libro cito alcune esperienze queste esperienze delle biblioteche del consorzio delle biblioteche lombarde 34 biblioteche che sono in rete forse saranno anche diventate molto di più adesso non lo so se tu hai notizie del SBNO consorzio delle biblioteche lombarde le quali hanno scoperto una cosa molto molto semplice che non è sufficiente essere biblioteche non è sufficiente distribuire per leggere libri occorre essere sul territorio centri di tanto aperte aperte piazze piazze aperte piazze aperte c'è un bellissimo libro le piazze del sapere è vero adesso non mi ricordo di chi è le piazze del sapere pubblicate a Cortina che è le sue esperienze delle biblioteche a Pesaro eccetera e queste idee qua queste sono le idee che fanno la città della conoscenza no? e quindi non solo piazze aperte ma anche iniziative che vanno ben al di là anche dal presentare libri di tutto ci vai se vuoi anche giocare a carte insomma cioè viverle come luoghi normali come luoghi normali da fuori è questa l'idea familiarizzare d'altra parte con la cultura se ecco ci si laurea è più facile laurearsi in famiglie in cui i genitori hanno entrambi il titolo di laurea nel 75% è chiaro che se tu ti abitui a frequentare normalmente a piedi di cultura familiarizzi con il sapere con la cultura allora ecco che fai la società della conoscenza e la città dell'apprendimento bene allora per concludere vorrei dire che dalle tue parole mi è apparsa questa immagine di questa biblioteca che sono molto felice di avere nella mia città questa biblioteca riostea che non presenta solo libri che fa tante altre iniziative con un personale eccellente che è un patrimonio della città e quindi questo lo volevo riconoscere così come volevo anche spezzare una lancia per gli insegnanti i nostri insegnanti italiani che al di là di tutto in quest'ultimo periodo hanno cercato di fare qualcosa al di sopra delle loro capacità e inventarsi un nuovo modo di insegnare attraverso la DAD e molti hanno cercato di tenere vive le speranze anche i pensieri anche le emozioni dei loro studenti anche pur collegandosi in remoto questi insegnanti italiani che sono sempre così sbeffeggiati ma che diciamolo veramente come è stato per noi anche per loro si sono formati da insegnanti con le loro stesse capacità e con le loro stesse competenze certo che in una società chiusa in una società chiusa per concludere come potrebbe essere considerata un po' la nostra che rifiuta la scienza se rifiuta la scienza le tradizioni culturali nega anche i saperi una società un po' chiusa e del resto in questo periodo una gran parte della popolazione ha dimostrato di negare la scienza forse per paura forse per narcisismo non lo so ma si sono sentite molte occasioni di contrasto con la scienza in occasione della pandemia comunque la quarta rivoluzione industriale promette intelligenza artificiale tecnologia realtà virtuali ma anche crescenti minacce alla sopravvivenza dell'uomo sulla terra come difendersi per concludere voglio una lancia a favore degli insegnanti impegnati nella DAD la voglio spezzare anch'io perché comunque essendo stato insegnante a mia volta so benissimo che cosa vuol dire fare scuola con passione appassionarsi e lavorare in una realtà che non ti dà gli strumenti gli strumenti te li devi inventare inventare tu tanto è vero che quando parlavo dell'esperienza del Equinox Summit di Waterloo in Canada c'è una precisazione da fare che esce anche da questa esperienza che è per insegnanti costretti a lavorare in un vecchio modello di scuola vecchio modello di scuola e diventa quasi impossibile poter rinnovare la scuola perché quello è il modello e lì ti devi muovere quelli sono i binari per cui la bravura dei colleghi che si sono impegnati nella DAD è doppia è doppia è doppia perché hanno dovuto inventarsi trumenti nuovi in un sistema estremamente vecchio e per nulla attrezzato da questo punto di vista la società chiusa minacce eccetera e questa società chiusa è una preoccupazione grande perché noi abbiamo visto crescere abbiamo poco tempo abbiamo visto crescere populismi sovranismi in questi anni agitare i crocifissi i rosari i vangeli eccetera e quando si creano queste situazioni la prima ad essere l'ambita è la scuola la prima ad essere l'ambita è la scuola perché a questo punto la scuola non è più il luogo della collettività di libertà di liberazione dove negozi significati dove lavori con la cultura ma diventa il luogo invece dove tu devi essere come dicevo prima conformato educato secondo i principi del populismo del prima noi prima gli italiani e questo è molto pericoloso l'altro aspetto è la debolezza del pensiero la debolezza del pensiero noi vediamo e viviamo ancora nel ventunesimo secolo tranquillamente tranquillamente tra culture evoluzioniste e culture creazioniste la più totale indifferenza e già questo è un bel problema e quando si affronta il tema della scienza si dice sì però prima l'umanesimo per la cultura umanistica poi sì c'è bisogno della scienza eccetera poi ci troviamo che abbiamo bisogno di rilanciare il vero e cosiddetto STEM cioè le materie scienze tecniche ingegneria e matematica per poter affrontare le sfide di sostenibilità di un sviluppo sostenibile ecco per cui questo tema della scienza è il tema vero è il tema vero è esploso in pandemia con i no mask i no vax eccetera noi abbiamo bisogno di più scienza quindi che cosa vuol dire più scienza conoscere ancora di più ricerca anticipazione lungimiranza ipotesi formare è questo allora la cultura umanistica ha bisogno per essere umanistica oggi di diventare scientifica di nutrirsi della scienza perché noi senza la scienza non andiamo da nessuna parte questo è dato è dato di fondo e quindi abbiamo bisogno eh si scriveva Baunan nelle 44 lettere per la società liquida no che noi ci troviamo di fronte a una sfida mai come prima ci siamo trovati in una società con questa sovrabbondanza di informazione e quindi la sfida è riuscire a educare e istruire in questa realtà che non è mai capitata prima nessun educatore per cui anche i nostri insegnanti hai voglia cioè noi abbiamo bisogno veramente di rivedere totalmente ruolo la professionalità dei nostri insegnanti e questo è un altro discorso c'era nel 1970 Alvin Toffler che scriveva in futuro shock futuro shock gli analfabeti del ventunesimo secolo non saranno quelli che non sanno leggere e scrivere ma quelli che non possono imparare disimparare e imparare di nuovo io chiudo dicendo concludo il mio libro con un neologismo futurizzare futurizzare quindi guardare al futuro mi fa piacere perché proprio di ieri Draghi che ha detto il gusto del futuro finalmente era ora che qualcuno lo dicesse dobbiamo guardare imparare futuro parlo di come insegnare a futurizzare che addirittura c'è un'organizzazione di teachers of future cioè insegnare insegnare il futuro perché perché noi abbiamo bisogno di ridare vita non ancora quello che ancora ci manca non ancora non ancora è quello che ci serve per andare avanti ecco chiudo sperando che la next generation you serva a questo visto che è next generation che abbia questo respiro del non ancora e del futurizzare grazie grazie Giovanni per tutte le tue riflessioni hai approfondito molti argomenti interessanti molti dei quali sono contenuti anzi quasi tutti anche in questo bellissimo libro si invito a leggere il libro perché ripeto quello che non ho detto non potevo non potevo dilungarmi esatto oltre già sono logoroico di mio scuola e apprendimento nell'epoca della conoscenza grazie a te per la tua competenza grazie grazie a te e per tutte le cose interessanti che hai detto grazie ringraziamo anche la biblioteca Rio Stea soprattutto grazie sempre per la disponibilità e salutiamo tutti coloro che sono in collegamento con noi ringraziandoli di averci seguito fino a qui